ciao volevo avvertirvi che già dallo scorso video ho rimesso a disposizione la mia vecchia wishlist di amazon che avevo creato lo scorso anno in occasione del mio compleanno dalla scorsa volta appunto fino a pasqua la troverete sotto ogni video nel caso in cui aveste voglia di farmi un regalo non è assolutamente obbligatorio e non si vince niente se non che quando mi dovesse arrivare qualcosa farò la video reazione e le metterò tutte insieme vi chiedo di saltare però l'arredamento perché non vivo ancora da solo e non saprei dove mettere gli articoli di arredamento grazie e vi lascio il video ciao a tutti i colors e benvenuti in questo nuovo video oggi voglio portarvi un tag che credo sia la quarta volta che sto girando anche se non nello stesso giorno si tratta del tag descriviti con la musica creato la terra in ingegno e che ho visto ormai ere glaciali or sono sul canale gli scleri di marido teniamo le dita incrociate e proviamo a rifarlo se fossi stato una cantante delle spaz girls quale se avresti voluta essere scusate se mi viene da ridere ma io sbaglio a parlare anche se voi non lo vedete ma per cui che mi ricordo sono tutte belle donne quindi siccome non non vedo nulla di male nel rinascere donna potrebbe essere una qualunque di loro se fossi nato negli anni 40 avresti voluto ci fosse stata una discoteca con la canzone di spasito piccolo aneddoto quando è uscita di spasito io lo odiavo perché tutti martellavano le orecchie degli altri con questa canzone appena tutti hanno smesso di martellare e ho deciso io di ascoltarla l'ho apprezzata al punto da farne una cover che vi metto nelle schede comunque sì la risposta è sì in quale canzone di tiziano ferro ti rispecchi allora io adoro la voce di tiziano ferro non le conosco tutte quelle che conosco mi piacciono però nessuna perché troppo tristi quale canzone canti sotto la doccia nessuna canzone perché non vedo l'ora di uscire la doccia canta cinque secondi di una canzone lirica che ti piace ma io non ho l'impostazione lirica vabbè ci proviamo con te partirò con quali cantanti viveresti permesso che io non ne conosco la discografia ho sentito di sfuggita alla voce di sergio silvestre e mi è piaciuta molto per cui chiederei a lui di essere un mio coinquilino e come coinquilina donna invece vorrei enia stai facendo un tour mondiale se magari quale canzone scegli di cantare come apertura del concerto uno degli abba o di george michael mia colpa io non mi ricordo le canzoni di george michael ho un brutto rapporto con titolo canzone autore almeno che non la stia studiando per canto quindi dico abba semplicemente perché li conosco un po di più non perché non mi piaccia george michael dovrei riscontarlo ti senti più vicino alla manoia o alla pausini anche qui splendida voce per entrambe però nei testi della pausini non va mai bene niente o quasi per cui scelgo la manoia canta 30 secondi di hey jude hey jude don't make it bad a quale musica ti senti più vicino rock o pop non escludo il rock a priori tant'è che prima o poi vedrete addirittura una cover mentile rock sul mio canale oltre a quella di gianna nanini che già avete visto però dovendo scegliere l'ultima domanda rispondo pop perché il genere che appunto si avvicina di più a me come la domanda chiede non c'è la domanda tag a qualcuno io però voglio taggare lo stesso voglio taggare due amiche che condividono l'amore per il canto con me ossia miele e cannella e il mondo di mari cercherò in qualche maniera di avvertire queste due belle donne dell'uscita di questo tag e spero che lo vogliano rifare il video finisce qui per favore aiutatemi a condividerlo perché non abbiamo più le community di google plus e io sono il lutto iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo buona musica a tutti iscrivetevi al canale